Grazie al trapianto ho di nuovo tempo, tempo per vivere, tempo per godere di tutto quello che la vita offre. Grazie al trapianto del fegato da settembre 2019 sono rinato. Grazie al trapianto posso veder crescere mia figlia. Il 26 settembre compio 54 anni e il 29 saranno due anni del mio secondo trapianto. Il primo di rene l'ho fatto nel 91 grazie a mio padre che mi ha donato il rene. Il secondo grazie a una giovane donna sconosciuta che purtroppo ci ha lasciato e mi ha fatto questo lavoro tantissimo. Non dimentichiamo che morendo lascia una speranza per poter rinascere. Mia sorella vive grazie a due di questi grandi due. Grazie a chi ha detto sì oggi sono vivo. Io vivo grazie alla tua donazione e il tuo gesto di coraggio ed amore non sarà mai dimenticato. Sono un donatore felice di aver dato un rene. Un donatore moltiplica la vita. Da due anni sono rinato grazie al trapianto di fegato. Il trapianto moltiplica la vita ma con me ha proprio esagerato. Venite! Donare è vita! Il trapianto è vita! Grazie al mio angelo che abbiamo chiamato Gabriele stiamo invecchiando insieme. Ricorda! Donare moltiplica la vita! Basta un sì!